L'unico chiave del mio cuore è della Ilop, è della Ilop. Battuta d'arresto per gli Unilop Valcuvia sconfitti domenica 15 dicembre con lo score di 29 a 10 sul campo del Cus Pavia. I padroni di casa passano in vantaggio al nono minuto grazie ad una meta di Pietro Contarato. Al diciassettesimo il Cus si porta sull'8 a 0, Mario Disetti infatti c'entra un piazzato. Al ventesimo Contarato va in meta per la seconda volta, Disetti trasforma per il 15 a 0. Nei minuti successivi gli Unni sfiorano più volte la meta e al trentatresimo minuto costringono al giallo Elvio Melorio. Nonostante la superiorità numerica la Ilop non concretizza. Nel secondo tempo entra in scena anche la nebbia. La terza meta Pavese viene segnata al ventiduesimo minuto da Melorio. Disetti trasforma e i padroni di casa allungano sul 22 a 0. Gli ospiti reagiscono e al ventisettesimo vanno in meta con Ivan Renzi. Passano poco più di 5 minuti e Alarico Zampori marca la meta del bonus per il Pavia. Il risultato si attesta sul 29 a 5 in seguito alla trasformazione di Mario Disetti. Nelle battute finali i Valcuviani segnano ancora e la sfida si chiude così sul 29 a 10 per il Cus Pavia. Al cospetto dei blasonati rivali gli Unni hanno comunque disputato una buona partita. All'orizzonte per la Ilop una lunga pausa. Prossimo appuntamento con il campionato di Serie C di Rugby il 2 febbraio 2014 in occasione dell'ultimo turno del girone di andata.